Oliveniva! Oh, no! Guarda! Non tuffate! Un po' più a sinistra, un po' più a sinistra, non tuffate! Oh, si! Vai a me! Ho un portiere, chi stava parlando il portiere? Portiere, fare un passo avanti! Cammino! No! No! E' un po' più a sinistra! Bravo, Andrea! Bravo! Andrea, ma che fai, no? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.